La storia che vorrei fare oggi è raccontarvi la storia di come un gruppo di ragazzi all'epoca, ora non più, in qualche modo si sono immaginati un modo per trasformare il territorio o perlomeno di occuparsi del territorio. La nostra storia inizia nel 2003, eravamo a Firenze, eravamo tre architetti e ci chiedevamo come potevamo intervenire sul nostro territorio cercando innanzitutto di non avere un punto di vista predeterminato. Voi sapete che i tecnici solitamente vengono chiamati, loro arrivano, vedono qual è il problema, tornano in studio, fanno il loro progetto, il progetto si realizza e al 70% delle volte il progetto viene rigettato dagli abitanti che ci vivono. Perché? Perché molte volte i tempi sono talmente lunghi che le problematiche che sono state individuate in quel momento lì nel frattempo sono cambiate. Molte volte hanno un punto di vista univoco, non considerano tanti altri punti di vista di persone che fruiscono quello spazio. Molte volte poi l'amministrazione pubblica ha delle pretese, ha degli orizzonti dei programmi che più delle volte non collimano con le condizioni anche culturali della comunità. Abbiamo provato più che altro a inventarci un processo per mettere in discussione questo sistema deterministico e anziché avere un atteggiamento strategico, quelli di lunga gettata, tenete conto i piani regolatori che venivano programmati per dieci anni con andamenti demografici che poi non ci sono stati, abbiamo pensato di avere un atteggiamento tattico, cioè nel senso di cambiare nel tempo in base alle variabili l'atteggiamento e l'obiettivo da raggiungere. Questo ci ha permesso in qualche modo di avere una sorta di orientamento verso lo spazio all'interno del quale noi agivamo che ci permetteva di avere il polso della situazione. L'altro aspetto era quello di mettere all'interno del sistema dell'analisi di questo territorio quanti più punti di vista possibili, cioè quindi avere una visione multipla del territorio. Quindi più variabili entravano all'interno del processo, più era vicina la probabilità di avere un risultato condiviso. Ora, questa teoria in realtà quando abbiamo iniziato la ignoravamo, cioè nel senso venivamo da quei percorsi che molto spesso ci accomunano un po' tutti, delle riunioni lunghissime nelle associazioni in cui si doveva decidere dei fatti ma si passava tipo giorni e giorni a parlare, intanto non accadeva nulla e abbiamo detto guardate, anziché passare dei giorni a discutere proviamo a inventarci un modo di agire e nell'agire costruire e nel costruire creare una interazione con chi ci circonda, dalle cose fisiche alle cose viventi. Per cui, per fare questo esperimento, abbiamo deciso di andare a San Cassiano, un paese sconosciuto, in modo che se facevamo dei danni nessuno se ne accorgeva. All'epoca, come tuttora, io sono di San Cassiano e in qualche modo i miei genitori godono di un certo rispetto e quindi di questo rispetto io ne ho fatto un credito, insieme a me e tutti gli altri che facevamo parte dell'associazione, che non erano tutti di San Cassiano e abbiamo provato così a inventarci questo processo e di sperimentarlo in questo piccolo comune. Quando abbiamo iniziato, in realtà non sapevamo nemmeno di che cosa ci volevamo realmente occupare, cioè nel senso che la parola paduli è venuta fuori dopo, al terzo anno del lavoro. In realtà volevamo soltanto trovare un modo, una modalità per interagire con gli abitanti e per costruire una visione multipla di questo territorio. L'idea nasce nel 2003 quando iniziamo a inviare una serie di mail ad amici agronomi, antropologi, videomaker, architetti, urbanisti e gli abbiamo chiesto di, con un manifesto sull'identità, correva l'anno 2003, era un anno in cui si andava, la parola identità era molto utilizzata da Franco Lacecla a Bauman, insomma vari saggisti avevano trattato il significato della parola, ma era anche una parola facile intorno alla quale chiunque poteva esprimere un pensiero. Allora ci siamo chiesti quali fossero l'identità di San Cassiano, poche parole. Quindi partire da un territorio e cercare di comprendere un territorio, forse bisogna iniziare a capire qual è la percezione identitaria di ogni singolo componente della comunità di quel territorio. E per fare questo ci siamo inventati una sorta di laboratorio, laboratorio urbano aperto. Per cui, che cosa succede? Che l'idea appunto dei paduri, i paduri è un'area circoscritta tra i comuni di Supersano, Maglie, Scorrano, San Cassiano, Botrugno, Surano, Nociglia, Giugianello, Sanarica, Muroleccese. Un'area diciamo tra le due serre, la serra diciamo verso Adriatica rispetto alla serra ionica, quindi si trova una sorta di piccola valle. All'epoca la parola paduli era una parola quasi ignorata, in realtà paduli, tant'è vero che il terzo anno il laboratorio si chiamava Maledetti Paduli, che era una parola quasi, era una frase in un certo senso provocatoria, è un territorio di circa 5.500 ettari di olivi secolari. Ma è un territorio anche che intorno agli anni 60 e 70 è stato un territorio che i nostri genitori in qualche modo hanno vissuto ma hanno anche sofferto, perché poi da lì sono tutti partiti, chi in Svizzera, chi a Torino, proprio perché la vita era molto difficile, nonché ora l'agricoltura goda di un periodo felice. Per cui in un certo senso era un territorio che piano piano stava passando nel dimenticatoio, c'è la memoria di questo territorio che si stava perdendo. Per cui all'epoca la parola paduli non veniva mai fuori e nemmeno veniva fuori la parola associata a parco, perché la grande vittoria o la grande gratificazione di questo lungo processo di dieci anni è che oggi, nonostante non esista un ente parco, tutti parlano di parco paduli. E nel momento in cui accade che delle attività possano mettere in discussione il suo carattere agricolo, tipo l'arrivo delle paleoliche, senza dover fare chissà quale movimentazione, questa consapevolezza raggiunta determina dei movimenti naturali delle comunità che si mettono lì e bloccano, o perlomeno fino ad oggi ci sono riusciti a bloccare questi interventi al punto tale che ci viene anche il dubbio se vale la pena istituire un parco, se non basti forse un principio di consapevolezza di quel territorio lì. Tanto è vero che per esempio, che cosa succede? Cosa è strana? L'anno scorso noi facciamo parte di Puglia Open Days e facciamo parte dei venerdì che erano gli itinerari in bici nei parchi, quindi insieme al parco delle Cesine, insieme ai parchi istituzionalizzati c'era il parco dei paduli, che non è un parco. Quindi nella sostanza si sta giocando su un carattere equivoco a livello istituzionale, ma su un fatto sentito e riconosciuto da tutti da parte delle comunità e dell'amministrazione. Quando abbiamo iniziato questo esperimento, e lo abbiamo iniziato appunto a San Cassiano, è iniziato in maniera molto semplice, quasi basica, sono partiti i primi manifesti, le prime mail, a San Cassiano si sono, mentre noi stavamo ancora a Firenze, comparivano dei primi manifesti, la gente si chiedeva ma che cosa vogliono questi, che cosa non fare. I giorni prima del laboratorio arrivavano videomaker, fotografi che giravano dentro il paese, facevano fotografie, video, interviste, la gente diceva ma questi sono pazzi, sono gli alieni, c'è San Cassiano un comune che fino a quel momento non era stato, non è che brillasse voglio dire per monumenti di una certa importanza come per esempio Patù o per qualche evento culturale di particolare importanza. Quindi questo elemento quasi di rottura, di una sorta di silenzio, durato per anni, in un certo senso ha creato una certa attenzione su quello che stava succedendo. nei giorni successivi accade che inizia questa sorta di workshop e le persone che arrivano da vari punti d'Italia invitate si incontrano nella piazza centrale di San Cassiano e qui in un certo senso c'è una sorta di diagramma che rappresenta la prima fase che è quella in cui dal nostro gruppo parte l'input verso una serie di interlocutori esterni e questa qui invece rappresenta quando questi interlocutori esterni e quindi dei saperi esperti arrivano all'interno di questo piccolo paese e si incontrano il primo giorno. succede che sono i pallini rossi e i pallini blu, esperti locali ed esperti che provengono da altri territori e i pallini verdi sono gli abitanti, come vedete i pallini verdi stanno fuori se non uno solo dentro, questo perché magari qualche amico viene trascinato a forza a partecipare. in questa fase qui il giallo eravamo noi. Questo perché? Perché abbiamo incominciato a ragionare sul principio che per costruire una visione di un territorio occorre unire due visioni, una visione del sapere locale insieme alla visione del sapere esperto. Le due visioni in qualche modo devono entrare in una condizione di prossimità e alcune volte devono anche confliggere per poter costruire così una condivisione e quindi costruire così una visione comune. Succede che esistono delle cose che i locali conoscono e che l'esperto non riesce a riconoscere perché ha una formazione monodisciplinare, ci siano delle cose invece che il sapere locale non riconosce più perché si è costituito una sorta di patina che a furia di rivivere gli stessi spazi non si riesce più a osservarli o a riconoscerli, che invece un sapere esperto esterno sa individuare e metterli in evidenza. Quando ci si riunisce il primo giorno all'interno di questi workshop si chiariscono quali sono le regole. La prima regola è che bisogna progettare insieme agli abitanti, si tratta di progetti di ricerca quindi per esempio il primo anno che è il tema sull'identità si individua il tema e si chiarisce che se i videomaker vogliono affrontare un racconto attraverso il video sull'identità di questo comune lo devono fare esclusivamente lavorando con gli abitanti. Non si accettano progetti preconfezionati, come sapete molte volte arrivano gruppi già strutturati e che partono già con un'idea pronta di quello che vogliono fare per cui appena arrivavano gli smantellavamo tutti. L'altra faccenda è che questo rapporto interno tra abitante e sapere esperto doveva produrre poi un bene che è la ricerca che diventava un bene di tutti. Quindi tutto ciò che si produceva si produceva non come un fatto interno al workshop ma come un fatto che doveva in un certo senso essere regalato o che comunque doveva appartenere alla comunità. All'interno di questo processo le istituzioni, quindi l'amministrazione pubblica veniva coinvolta come se fosse un ulteriore soggetto tipo dall'abitante il sapere esperto il sapere locale l'amministrazione pubblica. Noi crediamo che nei processi l'amministrazione pubblica debba essere coinvolta fin dal primo giorno. Non deve avere un ruolo differente rispetto agli altri interlocutori ma è lo Stato che partecipa a un processo di riconoscimento e di ricercazione all'interno del territorio. Quindi l'amministrazione pubblica per noi rappresenta lo Stato e lo Stato fa parte del lavoro sociale e comunitario che si fa all'interno del territorio. Per cui tutte quelle serie di piccole incrostazioni che si formano all'interno delle associazioni che prima di fare una cosa uno si chiede, ma questi sono bianchi, questi sono rossi, allora è meglio non farlo, ma poi se lo prendono loro, non se lo prendiamo noi. Questo non serve a nulla. La partecipazione è una missione, non ci si guadagna dalla partecipazione in termini economici, ci si guadagna in termini di beni comune. Quindi l'amministrazione può essere di qualsiasi colore e rappresenta lo Stato e lo Stato partecipa all'interno di questo processo, o perlomeno deve far parte di questo processo. Una volta che vengono fatte le regole, che cosa succede? Eravamo arrivati alla fase del primo incontro, si passa alla formazione dei gruppi di lavoro. Come vedete i gruppi di lavoro incominciano a includere all'interno i quadratini verdi. Allora i primi ad essere inclusi sono i baristi, che sono quelli che praticamente danno gli alcolici, i primi con i quali entri in contatto e sono quelli che conoscono un po' tutti e ti possono indirizzare a quale abitante affidarti per quel tipo di informazione di cui hai bisogno. L'idea qual è? L'idea è quella che nel fare le cose ci si racconta e ci si confronta su quella che è la visione e il tema per il quale ci si sta lavorando. Una volta che i gruppi si formano, e si formano quindi le ricerche, le ricerche nella parte finale vengono messe in una sorta di isteresi a confronto l'una con l'altra. Quindi in un giorno di festa, una vera festa organizzata per la strada nelle piazze, in cui la dimensione creativa della ricerca diventa determinante nella fase della comunicazione della ricerca stessa. Cioè l'arte all'interno dei processi partecipati assume un ruolo strumentale, cioè occorre nella forma di comunicazione, cioè quello che faccio poi lo devo comunicare e lo devo comunicare al bambino piccolo, all'adulto e all'anziano, a chi ha una preparazione culturale specifica e chi ha una preparazione culturale più media. E tutti devono comprendere il senso della ricerca che è stata fatta. Per cui queste sono alcune immagini delle fasi successive, per cui se nei primi laboratori partecipavano per esempio 60 persone, siamo arrivati a dei laboratori in cui si partecipava in 120, in 130, in cui sempre più si aggiungevano ulteriori enti pubblici a partecipare. Quindi se nel primo anno per esempio partecipa solo il comune di San Cassiano, negli anni successivi si aggiungono una serie di altri enti. Ma questo che cosa crea? Nella fase di ricerca in cui si investe sulle risorse umane si crea anche una microeconomia. Quando arrivano 60 persone in un piccolo comune di 2000 abitanti, sono 60 persone che devono dormire, 60 persone che mangiano, 60 persone che comprano i giornali, 60 persone che in qualche modo fruiscono dei servizi e costruiscono una microeconomia all'interno del piccolo paese. In realtà strutturando il tutto all'interno di una dimensione anche ludica, per cui il workshop era un workshop aperto, non a pagamento, non aveva tempi e orari, cioè praticamente da un certo punto di vista veniva percepito come disorganizzato, ma in realtà era una dimensione casuale che noi stavamo cercando, perché era proprio quella dimensione casuale e spontanea che ci avrebbe poi permesso di non tralasciare nessun aspetto di quelli che sarebbero potuti venire fuori dalla coincidenza di fatti. Per cui alla fine siamo arrivati a costruire un processo sempre più strutturato che è durato per circa dieci anni, in cui ogni anno l'idea e l'attenzione sul territorio aumentava e una parola di sfondo all'interno delle varie ricerche appariva sempre più evidente, che era la parola paduli. La parola paduli compare al terzo anno quando avevamo fatto almeno una trentina, forse una settantina di ricerche e nel racconto di queste ricerche o i paduli erano al centro o erano allo sfondo del racconto relativo alla ricerca. Allora ci siamo accorti che la parola paduli era una sorta di invariante del territorio, cioè era un elemento rispetto al quale tutto si doveva misurare. Allora dal luogo dimenticato, quindi dal luogo in lento abbandono, quindi dal luogo detrattore, in un certo senso diventa il luogo di forza, il punto rispetto al quale orientare tutte le politiche di trasformazione urbana, che nel concetto di politica di trasformazione urbana si includono poi tutte le politiche di trasformazione sociale, culturale. Chiaramente quando noi abbiamo lavorato rispetto ai paduli eravamo pronti anche ad accettare l'idea che da un momento all'altro questo tipo di ricerca o questo tipo di lavoro potesse concludersi, terminarsi. Per il semplice fatto che bisogna capire se il tempo giusto è il momento giusto per fare certe trasformazioni. Nel senso uno può avere anche una brillante idea, ma se il contesto culturale in senso antropologico non è pronta a sostenerla, quella trasformazione, quella trasformazione non avverrà mai, quindi bisogna aspettare, fare un passo indietro e aspettare che le condizioni al contorno siano pronte per poter determinare quel tipo di trasformazione. Nulla è scontato, per cui ogni anno che noi andiamo avanti, ancora oggi, noi siamo pronti ad accettare l'idea che da un momento all'altro l'idea di parco paduli finisca, si esaurisca, perché la partecipazione presuppone un processo di irroramento della comunità. Cioè non è un fatto che inizi e dura un mese ed è finita, è un fatto che inizi e va irrorato di continuo, di continuo, perché di continuo le condizioni cambiano e di continuo devi cambiare l'orientamento, di continuo devi cambiare il programma. Qui ci sono alcune immagini appunto dei vari incontri, dei vari attraversamenti che i paduli sono stati fatti, per esempio abbiamo chiesto a un operatore dell'Enel di portarci all'interno di questi paduli e lui si orientava esclusivamente attraverso le linee elettriche, le cabine elettriche. Quindi per lui i paduli, quest'area olivetata immensa, in cui non c'è un elemento di riferimento, veniva attraversata sapendo esattamente dove era la cabina elettrica o dove era la linea elettrica, oppure il sindaco conosceva alcune strade con dei nomi, dei luoghi con dei nomi e un pittore ne conosceva altre con nomi uguali, per cui se si fossero dati l'appuntamento uno sarebbe andato a sinistra e l'altro se ne sarebbe andato a destra. Questo fa capire anche che è un territorio, nel momento in cui perde la memoria dei propri toponimi, sta perdendo nella sostanza la sua geografia e la sua presenza mentale all'interno della comunità. Queste sono alcune immagini di questo territorio che immagino qualcuno di voi conosca, per cui nelle nostre, diciamo, nei nostri lavori di ricerca abbiamo coinvolto il circolo delle donne, come anche il sovrintendente dell'archeologica, cioè ci interessava capire le varie percezioni che si hanno di questo territorio e i vari racconti che venivano da questo territorio, per cui da una parte avevamo il racconto scientifico, dall'altra avevamo il racconto orale. Allora, che è custodito nelle pubblicazioni, nelle biblioteche e quindi si sa dove andarlo a riscontrare, raccoglierlo e sistematizzare, il racconto orale invece rischia la scomparsa, perché vive esclusivamente per una trasmissione orale. Se quindi questa trasmissione orale in un certo momento non viene in qualche modo raccolta, sistematizzata e depositata, tenderà a scomparire. Quindi molte conoscenze scompaiono proprio perché si interrompe questa trasmissione orale, ma si interrompe l'attenzione sul sapere locale, che è quel sapere che va, diciamo, messo in rapporto con il sapere esperto per costruire un'immagine complessa del territorio. Un po' di numeri. Il primo anno sono 62 partecipanti, 23 ricerche e un comune coinvolto. L'anno successivo sono 117, 45 ricerche e 5 comuni coinvolti. E si va avanti così, i comuni coinvolti sono sempre di più. Si arriva nella sostanza ad avere 406 partecipanti l'ultimo anno nel 2009, 20 ricerche prodotte, 10 comuni. In realtà si arriva a un totale di 1099 partecipanti, circa 151 ricerche e 18 enti coinvolti. Quindi in un lavoro di 10 anni si riesce così ad avere una scansione del territorio da punti di vista veramente inediti, che a un certo punto ti ritrovi con una grande quantità di informazioni. Per cui lui a un certo punto deve anche dimostrare a che cosa serve aver fatto per 10 anni il laboratorio urbano aperto. E lo deve in qualche modo dimostrare soprattutto alle istituzioni. Perché poi le istituzioni a un certo punto ti chiedono, vabbè, ma mo' che succede? Cioè i soldi quando arrivano? Perché poi con quello ti devi confrontare, no? Allora, aver fatto tutto questo lavoro significa aver avuto la possibilità di costruire una visione ampia del territorio. La raccolta di questi dati e la sua sistematizzazione ci ha permesso di individuare una serie di tematiche all'interno delle quali ogni ricerca si andava a collocare. Ogni ricerca potenzialmente era un progetto. Per cui tutti questi progetti, quando nasce la legge regionale 21 del 2008, che è la legge sulla rigenerazione urbana, noi nel 2009 eravamo già pronti, nella sostanza, a costruire uno dei programmi integrati di rigenerazione territoriale più importanti della Puglia. Tanto è vero che nello stesso periodo il comune di San Cassiano, insieme a 10 comuni, sottoscrive un protocollo di intesa con la regione Puglia come progetto pilota del nuovo piano paesaggistico e per la prima volta accade che in un protocollo di intesa sottoscritto dai 10 comuni compare come coordinatore di questo processo un'associazione culturale, cioè il LUA. Cioè tra soggetti che sono delle istituzioni compare un'associazione culturale, è un fatto abbastanza inedito e nuovo. Questo significa che abbiamo guadagnato nel frattempo la fiducia delle amministrazioni pubbliche e dall'altra anche un riconoscimento del lavoro fatto fino a quel momento. E inoltre politicamente i comuni si assumono una responsabilità importante nel momento in cui decidono di sottoscrivere un protocollo come progetto pilota del nuovo piano paesaggistico, perché voi sapete benissimo come il nuovo piano paesaggistico sia stato per alcuni mal digerito, perché pone al centro l'importanza del paesaggio e non sempre la speculazione edilizia può essere riconosciuta come unico vantaggio economico dell'innovazione su un territorio. Per cui da questo sistema qui nasce il piano integrato di rigenerazione territoriale, partecipiamo al bando e arriviamo primi in tutta la regione Puglia. Per la prima volta 10 comuni insieme costruiscono un documento programmatico che è una variante agli strumenti urbanistici. Per la prima volta 10 comuni condividono un unico progetto in comune, che è quello del parco agricolo, che riassuma all'interno di sé tutta una serie di piccoli progetti che vanno dal settore agricolo a quello della trasformazione urbana, a quello della trasformazione culturale e sociale. Questo strumento oggi è ancora vigente e permette a tutti i comuni di orientare le proprie future trasformazioni urbane in base alle direttrici e alle tematiche che sono nate da questo programma costruito dall'UA che ha coordinato 10 uffici tecnici, che parliamo sempre molto male degli uffici tecnici dei vari comuni, ma bisogna anche riconoscere il fatto che il più delle volte sono sottodimensionati e si devono occupare di fatti abbastanza importanti, gli stessi fatti che altri uffici di città più grosse se ne occupano nella stessa maniera, solo che la mole di lavoro per il piccolo comune è molto più alta e che hanno accettato a titolo gratuito di costruire un programma così complesso. Per cui chiaramente bisogna avere anche la fortuna di avere dei compagni di viaggio che in qualche modo sostengono e riconoscono il valore di quel percorso, sia quelli più stretti e sia quelli che poi si riconoscono negli enti e nelle istituzioni, perché anche quella è una grande scommessa, oltre ad essere una scelta politica. Parallelamente nel 2008 nascono i laboratori urbani, il comune di San Cassiano insieme ad altri quattro comuni partecipa al bando, il bando viene vinto con un progetto del quale non sono particolarmente convinti, viene finanziato, ma in realtà se da una parte si costruisce il parco fisicamente con i 6 milioni di euro, che verranno spesi in parte nella valorizzazione di parti che riguardano il centro urbano, è un undicesimo progetto di interconnessione fra i 10 comuni attraverso la riqualificazione delle strade rurali di connessione fra gli stessi e il declassamento a zone 30, quindi non andando a costruire la pista ciclabile, ma semplicemente normando quella strada e dicendo che è una strada a velocità 30 e intervenendo all'interno con un sistema di infocircle, che è un sistema di orientamento all'interno dei paduli, che è un sistema che consente attraverso uno smartphone di collegarsi e avere non soltanto delle informazioni di natura geografica, ma anche informazioni legate a quel luogo rispetto a una conoscenza storica, a una conoscenza botanica, che in realtà non è altro che la sistematizzazione di quel centinaio di ricerche che sono state prodotte nei 10 anni precedenti e che diventano ancora una volta patrimonio di tutti, dall'altra si agisce attraverso i laboratori urbani alla sperimentazione della gestione di un parco agricolo. Nel momento in cui un parco agricolo deve funzionare è evidente che l'agricoltura da sola non è in grado di autosostenersi, oggi si parla di agricoltura multifunzionale, cioè all'agricoltura bisogna associare una dimensione sociale, culturale che sia in grado di poterla sostenere. Attraverso il laboratorio urbano nasce lo spazio e il tempo per poter fare una serie di esperimenti. Questi esperimenti in realtà coincidono con la nascita di 5 sottolaboratori che si occupano di mobilità, percorsi anogastronomici, agricoltura, ospitalità diffusa e percorsi culturali. Sono 5 laboratori che agiscono in 5 comuni e agiscono in contemporanea attraverso la gestione di 5 associazioni. Che cosa fanno questi 5 laboratori? I 5 laboratori incominciano a lavorare su modelli sperimentali di autogestione mettendo al centro l'agricoltura. Per cui il progetto dell'ospitalità diffusa si occupa del recupero di seconde case all'interno dei centri storici e della gestione di queste seconde case, ma si occupa soprattutto della gestione di un patrimonio che abbiamo invece costruito noi, che sono due foresterie che abbiamo a disposizione all'interno del patrimonio dei laboratori urbani. Una è una foresteria proprio all'interno del laboratorio mobilità e l'altra è una casetta recuperata all'interno dell'uliveto comunale. Che cosa succede? Che attraverso la rigenerazione urbana per la prima volta si acquista un uliveto all'interno di un territorio che è iperprivato. I paduli sono nella sostanza 5500 ettari di ulivi privati. All'interno di questi 5500 ettari compare il primo uliveto pubblico, che viene acquistato proprio attraverso la rigenerazione urbana e territoriale. All'interno di questo uliveto c'era una piccola casetta completamente semidistrutta che con i soldi della rigenerazione viene recuperata attraverso un sistema di un recupero che le consente di essere completamente autosostenibile, cioè produce energia elettrica, produce acqua calda, raccoglie da sola le acque piovane, è un sistema di fitodepurazione, quindi nella sostanza abbiamo un sistema autosufficiente all'interno dei paduli ed è la casetta che è il presidio del progetto Abitare i paduli. Abitare i paduli quindi è un progetto di sostenibilità legato al mondo rurale e oltre alla gestione e l'ospitalità diffusa di questa piccola casetta gestisce anche dei rifugi che è il primo esperimento di un albergo biodegradabile che abbiamo sperimentato all'interno dei paduli di cui poi vi racconterò man mano che andremo avanti. Mobilità e territorio invece oltre a gestire un parco bici che è stato acquistato grazie a un piano di gestione oculato, quante volte hanno fatto interventi di ristrutturazione per i laboratori urbani, hanno comprato delle strumentazioni che poi non sono servite effettivamente a quello che quel laboratorio urbano si presupponeva dovesse svolgere, perché in realtà non esisteva un piano di gestione e quindi chi ha comprato le attrezzature non sapeva esattamente a che cosa potessero servire. Nel caso nostro specifico il laboratorio agricoltura, per dirvi, ha comprato gli abbacchiatori, il compressore, che quando a Bari sono arrivate le distinte delle cose che stavamo comprando, chiaramente si sono ritrovati e diciamo che sono impazziti, tutti comprano la macchina digitale, la videocamera, il Mac, l'iPad. In realtà noi compravamo attrezzi agricoli, macchine per imbottigliare, tutta una serie di attrezzature specifiche per ogni... per esempio abbiamo comprato la cucina mobile, il laboratorio di gastronomia ha un sistema di attrezzature mobili che ci permette di poter andare a cucinare in campagna, in una piazza o all'interno della sede del laboratorio, all'interno del quale noi stiamo facendo tutta una serie di ricerche sui ricettari che nascono dall'utilizzo delle piante spontanee che vivono all'interno dei paduli. Per cui quando noi facciamo gli eventi il laboratorio gastronomia produce una serie di ricette che sono l'esperienza raccolta di ricerca di queste pietanze che vengono raccontate soprattutto da quelle signore anziane che ti sanno distinguere quindici specie di cicoria selvatica, perché uno pensa che ce n'è una sola, invece sono tante tante e magari saranno anche di più di quelle che siamo riusciti noi a individuare. Abbiamo il laboratorio agricoltura ambiente di cui noi gestiamo 500 alberi d'olivo, noi abbiamo iniziato a gestirne circa 200 attraverso dei comodati d'uso a titolo gratuito, siamo andati a individuare oliveti abbandonati da oltre 5 anni all'interno dei paduli, di signori magari anziani o di persone che per esempio si trovavano in Svizzera e quindi non potevano gestirli, ce li hanno dati in comodato d'uso per 5 anni, ora ci ritroviamo che ci inseguono, che ci vogliono dare tutti ulivi e noi non abbiamo poi la capacità economica di poterli gestire, ora ne abbiamo 500 ma se dovessimo dire di sì a tutti quelli che ce l'hanno detto ne avremmo almeno 3000. E con il laboratorio agricoltura abbiamo avviato tutto un lavoro su un modello di produzione che oggi sta dando una serie di importanti risultati di cui poi ne parliamo successivamente e poi abbiamo il percorso beni culturali che è il laboratorio di Giugianello che ha costruito un sistema di audio walk attraverso il racconto del territorio fatto non soltanto da saperi esperti, quindi dal botanico, dallo storico ma anche dal proprietario del terreno che ospita il bene. Per esempio abbiamo intervistato il proprietario che ospita il Dolmen Chiancuse o lo Furticidio della Vecchia, non so se lo conoscete, a Giugianello, qualcuno lo conosce, comunque è un monumento megalitico abbastanza conosciuto. Per cui sono anche i proprietari che raccontano il rapporto che hanno all'interno di quel luogo, il rapporto che hanno con il monumento. Per cui nel momento in cui noi ospitiamo i nostri visitatori, li permettiamo di fare innanzitutto un giro autonomo, gli diamo le bici attraverso il laboratorio mobilità, hanno l'audio walk attraverso percorsi culturali, hanno la possibilità di degustare l'olio, di dormire nei rifugio nella casetta e di mangiare quindi un antipasto, cioè un antipasto scusate un aperitivo o una colazione attraverso il laboratorio di gastronomia. Quindi i cinque laboratori agiscono in maniera complementare l'uno con l'altro e agendo non come accadeva nel medioevo, ognuno nel proprio comune, ma agiscono in maniera trasversale e per la prima volta 50 ragazzi di cinque comuni quando lavorano, lavorano insieme e lavorano per cinque comuni, cioè lavorano per un territorio e non più per un limite amministrativo. Esempio che è stato determinante perché di pari passo con la percezione che anche gli stessi amministratori comunali dei dieci comuni dei paduli mano a mano sono riusciti a raggiungere. Se prima si ragionava quanti soldi mi dai per fare la cosa nel mio comune, oggi si ragiona quanti i soldi riusciamo a prendere per portare avanti il progetto paduli, cioè una visione molto più ampia del territorio e non più costretta a un limite comunale. Per cui a più livelli questa consapevolezza si misura proprio nel momento in cui li ritrovi nel fare. Oggi per noi la più grande gratificazione è quella di dire dopo tre anni di lavoro con 50 ragazzi, i 50 ragazzi ci stanno tutti e continuano ad esserci, anzi ora si sono stancati di noi che siamo vecchi e siamo più lenti di loro nel voler fare le cose, nel proporre e ora vedrete anche qualche lavoro che hanno prodotto. Ecco questo è Puglia Open Days e sono i percorsi, cioè questa è la cosa interessante, se con la rigenerazione abbiamo avuto un finanziamento per intervenire sulle strade, con Volenti Spiriti abbiamo avuto il finanziamento per la gestione di quelle strade e questo è potuto accadere solo perché c'era un'idea comune a monte e precedente ai finanziamenti. Sembra un passaggio scontato, ma non è così, tenete presente che tendenzialmente i comuni preparano i progetti 20 giorni prima della scadenza di un bando e lo fanno esclusivamente per rispondere alle domande del bando e prendere il finanziamento, non perché hanno una visione. Avendo una visione è tutto più facile, è più facile per gli amministratori ma è più facile anche per le associazioni e per gli abitanti comprendere il senso di quelle operazioni lì. E qui abbiamo avuto un grandissimo successo perché quest'estate per la prima volta, l'estate scorsa, il parco Padulli è stato percepito come un vero e proprio parco, come andare alle cesine o al parco... per cui venivano tutti accompagnati o a cavallo in bicicletta a fare un itinerario all'interno del parco, 5 itinerari differenti, quindi 5 storie differenti all'interno del parco e poi finiva con delle feste sempre all'interno dell'area dei Padulli che è un'area completamente buia, forse il luogo più buio del Salento, cioè l'indice di buiometria è più alto, tant'è vero che l'associazione Astrofili ha inventato il parco Padulli delle stelle e questa è una cosa interessante, per cui il parco Padulli non lo vivi più soltanto di giorno, esperimento che facemmo durante uno dei laboratori, fare il picnic notturno ai Padulli, si andava in bicicletta di notte, si organizzava il picnic per osservare le stelle, quello che era un esperimento fatto nel 2007, oggi è diventato un appuntamento fisso del gruppo degli Astrofili Salentini ai quali noi abbiamo costruito una piccola piazzetta, un piccolo slargo all'interno del parco Padulli dove loro organizzano i loro eventi, le loro feste in cui vanno con i telescopi e la gente arriva da Mezzosalento per osservare le stelle insieme a loro, quindi i Padulli incominciano ad essere visti da punti di vista inediti e se non ci fossero stati questi piccoli esperimenti, il picnic notturno, l'astrofilo che coincidono all'interno di questo sistema di variabili, noi non saremmo mai potuti arrivare a intuire che con i soldi della rigenerazione conveniva liberare un triangolino di spazzatura ma nel liberarlo averne trovato un senso nell'uso ma aver trovato anche un'associazione che se lo gestisce, perché oggi la pulizia di quel triangolo se lo fa l'associazione degli astrofili, quindi con un costo minimo, quindi con un costo di gestione anche minimo abbiamo ottenuto un uso inedito e un uso rispetto al quale i Padulli ancora una volta sono più conosciuti rispetto a quanto lo si conoscessero prima. Ma per costruire un'attenzione sul territorio occorre costruire una sorta di calendario di cura di questo territorio. Il calendario di cura per noi avviene attraverso tre eventi sostanziali. Il primo evento è nidificare i Padulli, il secondo evento è Lampa e il terzo evento è il concorso letterario raccontare i Padulli. Queste tre cose, anche se sembrano l'una diciamo diversa dall'altra, in realtà insieme costruiscono un calendario quasi agricolo perché in realtà nidificare i Padulli è l'esperimento dell'albergo biodegradabile che nasce attraverso un concorso internazionale in cui noi mettiamo a disposizione tutti i resti della potatura e della pulitura dei canali dei nostri terreni, quindi le arundodonax, le canne comuni dei canali e le ramaglie che sono rimaste dalla potatura dei nostri alberi, la mettiamo a disposizione per un concorso internazionale in cui chiediamo ad architetti, designer, creativi di immaginare un rifugio da utilizzare all'interno dei Padulli con lo scopo di passarci una notte. Ossia quando i Padulli non sono più l'area della produzione agricola, cioè finisce il periodo della raccolta delle olive e quindi della produzione dell'olio, i Padulli diventano un paesaggio contemplativo, quindi da paesaggio agricolo a un paesaggio contemplativo e nel momento in cui diventa un paesaggio contemplativo a chi vuole conoscere questo territorio bisogna regalargli anche delle esperienze nuove, inedite, fargli vivere una notte all'interno dei Padulli significa entrare in contatto con un sistema di suoni, di odori che sono completamente inediti, prima di tutto sconosciuti a noi locali, ma poi per chi viene da fuori vi garantisco che ci hanno dormito, è un'esperienza che lascia il segno, che crea un'attenzione, per cui abbiamo fatto questo concorso internazionale, hanno partecipato in 38 gruppi provenienti da tutto il mondo, dal Venezuela al Marocco, due vincono il concorso e per la prima volta chi vince il concorso non solo ha il premio perché ha vinto il concorso, ma noi gli abbiamo dato i soldi per costruirlo, cioè solitamente per gli architetti funziona che vincono un concorso a stenti gli danno i soldi di aver vinto il concorso, il fatto di costruirlo il più delle volte se lo scordano, perché prendono altre derive, altre strade, in realtà qui noi abbiamo detto voi lo progettate, ci dimostrate che lo sapete progettare e costruire, perché vale il principio dell'autocostruzione, e lo autocostruite, questo perché? Perché alla fine dei conti noi avevamo bisogno di avere dei rifugi da investire in un'ospitalità diffusa, sperimentale, quindi quell'albergo biodegradabile che ci serviva perché poi quando arriva il momento della raccolta delle olive, questi rifugi nella sostanza non ci devono creare problemi. Allora organizziamo questo concorso internazionale, nella commissione invitiamo anche un'esperta di autocostruzione che si chiama Elena Bartel, di Rural Studio, Rural Studio è una sorta di università legata alla Osborne University dell'Alabama, è una sorta di scuola di specializzazione in cui chi va a fare la scuola di architettura dopo i tre anni va in questa scuola di specializzazione perché gli insegnano ad autocostruire, cioè la sperimentazione è costruire a basso costo case per senza tetto. Quindi da una realtà completamente diversa arriva a San Cassiano, quel comune che nessuno conosceva, in cui avevamo iniziato quell'esperimento tanto strano, e da lì nasce questo contatto con questa università e diventa un fatto anche conosciuto negli Stati Uniti. Tant'è vero che quest'anno molto probabilmente verranno alcuni studenti dell'università a fare l'esperimento di autocostruzione. Per cui i due vincitori di questo concorso, ora sto andando avanti, comunque beh, immagino ulivi bellissimi ci stanno anche a Patù, non è che gli ulivi dei paduli siano particolarmente diversi dagli altri, però chiaramente per noi lo sono. Queste sono alcune foto degli incontri pubblici che abbiamo fatto con i vari abitanti per raccogliere le adesioni delle cessioni per comodato d'uso degli uliveti. Chiaramente per un'azienda agricola avere 500 alberi sparpagliati in un raggio di 10 chilometri non è molto conveniente, infatti nel caso nostro non è molto conveniente, però è conveniente far conoscere un processo di produzione dell'olio che ci ha dato un sacco di soddisfazioni e che oggi ci ha permesso di avere persone che vengono da noi a chiederci come fare per produrre l'olio. Quindi da persone non esperte siamo diventati un modello di riferimento, che era poi l'obiettivo che ci eravamo posti. Avendo avuto un finanziamento pubblico solo noi potevamo sperimentare un modello nuovo per la produzione di olio di alta qualità. Voi sapete benissimo che tendenzialmente l'olio che si produce tende al lampante o perlomeno l'impostazione degli alberi, che sono alberi che hanno dai 300 ai 400 anni, sono alberi che sono nati per la produzione di olio lampante, cioè di olio che veniva inviato nelle capitali europee nei primi dell'ottocento per l'illuminazione pubblica. Poi noi abbiamo anche un palato particolare, ci siamo anche abituati a certe gradazioni o a certi sapori, tant'è vero che poi chi di noi si è spostato dalla Puglia e andato per esempio in Toscana, all'inizio quando ha assaggiato l'olio toscano dice no, quest'olio è strano. Infatti se noi proponiamo ai nostri nonni l'olio toscano ti dicono che è un olio che fa schifo perché è come aver fatto un succo di frutta da una frutta acerba, invece il succo di frutta va fatto da una frutta matura, l'oliva che cade per terra. Il problema è che l'oliva cade per terra, viene attaccata dai batteri e in realtà diciamo di maturo c'è ben poco, c'è molto di acidità e di perossidi che l'attaccano. Per cui noi iniziamo questo modello sperimentale accompagnati da un oleologo che è Luigi Caricato e da un biologo Luigi Toma che ci accompagna in questo processo e in questo progetto di produzione alle aria. Questo progetto di produzione alle aria che ci porta a fare delle schede per tutti gli alberi che sono stati in qualche modo censiti, questa invece è l'uliveto pubblico, è la particella dell'uliveto pubblico all'interno della quale insiste, questa è la casetta come si presentava prima di essere acquistata, questo è il progetto di recupero della casa, quindi tutto il sistema integrato di produzione di energia elettrica attraverso un microeolico, pannello fotovoltaico, pannelli termici per l'acqua calda, un sistema di raffrescamento in cui l'aria fredda delle cisterne che raccolgono le acque meteoriche viene immesso all'interno della casa nel periodo estivo, quindi l'aria fredda entra all'interno della casa, la raffresca e poi dal camino esce fuori, queste bocchette poi chiaramente d'inverno vengono chiuse, il sistema interno di isolamento è stato fatto con dei pannelli in fibra di legno, quindi noi abbiamo un'escursione termica di circa 8 gradi tra l'interno e l'esterno, l'inverno e l'estate, cioè se fuori c'è 38 gradi all'interno ne abbiamo 31-32 e si sente la differenza. E questa è la casetta ristrutturata con i soldi della rigenerazione che diventa il presidio di questo livello pubblico che noi gestiamo perché poi con i bollenti spiriti prendiamo in gestione il bene pubblico e lo mettiamo a profitto, cioè incominciamo a far sì che questo bene incominci a produrre una microeconomia che sia in grado di autosostenere questi progetti. Per cui nasce in edificare i paduli, queste sono alcune immagini e questi sono i due vincitori, questa è la tavola che ci arriva di questo gruppo, che ci propone questa immagine onirica come di tante lanterne sotto le chiome degli alberi. Sono lanterne tutte ad olio lampante, tanto è vero che quando noi illuminiamo l'uliveto lo illuminiamo esclusivamente con lanterne, con olio lampante che lo andiamo a prendere dalla cooperativa, che sono esperti di produzione di olio lampante. E queste immagini catturano l'attenzione di tutta la commissione, l'unica cosa è che abbiamo paura che la realizzazione non sia poi così vicina a queste immagini, è un rischio che ci prendiamo. Invece questo è l'altro progetto vincitore del concorso, che invece utilizza la Rundo Donax per costruire il nido intorno all'albero. Si fa la mostra dei pannelli nelle varie piazze dei comuni che partecipano al progetto Abitare i Paduli. Inizia il workshop di autocostruzione e alla fine questi qua riescono a realizzare veramente quello che ci avevano rappresentato virtualmente all'interno delle tavole. Questa qui è il lovo, quello che ha vinto il concorso, completamente illuminato con le lanterne ad olio lampante e vi garantisco che è quello più ambito per l'ospitalità estiva, cioè le coppie preferiscono dormire qua dentro e quando non ce lo pagano vi garantisco che c'è la fila nell'uliveto pubblico di coppie che vanno a fare l'amore là dentro e questo ci rende particolarmente felici. Per cui grazie a questi nidi che vengono costruiti all'interno dei Paduli, noi l'estate scorsa abbiamo potuto così costruire un pacchetto che comprendeva l'arrivo al laboratorio di mobilità in macchina. Si lasciava la macchina, si prendeva la bici, con l'audio walk si faceva l'itinerario al tramonto all'interno dei Paduli. Quando arrivava sera ci si indicava la strada per arrivare nell'uliveto pubblico, l'uliveto pubblico completamente illuminato con le lanterne ad olio lampante. Il laboratorio di mobilità finisce la sua mansione, inizia la mansione del laboratorio di ospitalità diffusa che nel frattempo aveva preparato lenzuola, materassi e cuscini all'interno dei rifugi. Il laboratorio del gusto aveva preparato tutto ciò che occorreva per l'aperitivo, attraverso formaggi, attraverso una sorta di convenzione che abbiamo costruito con le varie masserie che stanno all'interno dell'area dei Paduli, la degustazione dell'olio prodotto dal laboratorio agricoltura che si chiama Terra dei Paduli, per cui si lasciava la coppia a fare quello che pensava di fare e la mattina successiva alle 7 trovavano poi la colazione pronta, sempre con il latte a muto, sempre all'interno delle stesse masserie, i dolci appena sfornati con i vari biscotti e così il pacchetto si concludeva, diciamo della visita di questa esperienza immersiva all'interno dell'area dei Paduli. E questo è il nido. A parte questo qui costruito con la rundodonax, l'altro viene smontato perché l'altro hanno fatto un lavoro molto interessante perché lo hanno costruito con la struttura sempre con le rundodonax. Invece i teli sono i teli di raccolta delle olive. Il taglio dei teli è un 10 metri per 10 che è la misura che a noi occorre per raccogliere le olive. Per cui una volta che finiamo la raccolta delle olive, che quindi non serve più, viene utilizzato il telo per costruire il rifugio. Quindi il concetto di riciclo, però un riciclo perpetuo in cui la sua funzione è calendarizzata dal tempo dell'agricoltura. E' l'unione delle terre di mezzo. L'unione delle terre di mezzo l'ha acquistato e l'ha dato in convenzione per 5 anni insieme al contratto che noi abbiamo sottoscritto con l'unione delle terre di mezzo di gestione dei laboratori urbani. Chiaramente tutto questo è possibile grazie alle 5 associazioni dei 5 comuni che coordinate da noi agiscono, lavorano, inventano e costruiscono. Persone che non è che hanno una formazione o avevano una formazione particolarmente professionalizzata, ma nel percorso che hanno fatto con noi in 3 anni si è costruito uno spazio della formazione e oggi producono una serie di comunicazioni abbastanza importanti. magari ora facciamo vedere il video di nidificare i paduli. Grazie. 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 Grazie.